È un evento importante perché è il primo e ultimo evento prima della finale dei campionati italiani della categoria Under-15, quindi parliamo del futuro della nostra Italia, giudoistica ovviamente. I ragazzi che sono qui sono ad altissimo livello, sono selezionati da tutto il centro-sud perché in contemporanea si svolge una tappa anche in Veneto, ma devo dirvi che abbiamo anche qualche presenza dal nord Italia. Quest'evento prevede due giornate, la prima è il Trofeo Italia Under-15, sono tre tappe in un anno, ma questo è l'anno olimpico per cui nel primo semestre c'è molto di più, è molto più importante la lotta per la conquista del titolo perché poi si svilupperà tutta la stagione futura e soprattutto ci sarà il giorno di domenica che avremo tanti fanciulli ragazzi, i bambini Under-12 e Under-10 che si confronteranno in amicizia, dove l'attività preagonistica ha il suo culmine nel confronto col proprio compagno. State facendo grandi cose, grandissime cose a livello organizzativo lo vediamo, ma anche a livello agonistico di risultati, non è il primo anno perché Kodokan è una società storica, però gli ultimi anni sono stati ancora più performanti. Allora sì, gli anni diciamo 2000, dal 2022-2023 abbiamo avuto diversi titoli italiani, abbiamo avuto il titolo italiano a squadre Under-18 con due titoli italiani di Alessandro Durbano e Lucio Tavoletta che poi si è ripetuto l'anno successivo ma soprattutto è diventato campione europeo Under-18 e campione del mondo, Under-18, ma Alessandro Durbano è arrivato secondo ai campioni del mondo, risultato storico per tutte le società in Italia perché mai un atleta era riuscito a fare il triplete, campioni italiani e europei mondiali e mai nessun club in Italia aveva avuto due finalisti ai campioni del mondo, per cui onore al Kodokan Chieti ma onore ai ragazzi che sono eccezionali. Grazie.